L'amatori Lodi vince la gara di andata della Supercoppa Italiana di Hockey Suppi sta espugnando il palaforte con il punteggio di 5-4. È greco per gli ospiti a sbloccare il risultato rientrato subito a mille dopo una travagliata scorsa stagione. Rubio per il rosso-blu pareggia subito, poi il nuovo arrivato Barbieri fissa il nuovo vantaggio per il Lodi. L'ex Illuzzi timbra subito con un fendente il nuovo pareggio, ma è tornere in contropiede che fa volare il Lodi sul punteggio di 3-2. Il gol decisivo a conti fatti sembra la rete del 4-2 di Giorni Bendez. Come solo pochi mesi fa il Lodi colpisce ad inizio e fine tempo. Nella ripresa l'Hockey Forte de Marmi preme sull'acceleratore. Rubio dimezza il gap, invenzione dietro porta che supera l'attento Grimal. Poco dopo mette a segno il suo primo gol in Italia dopo 5 anni lo spagnolo Pedro Gil grazie ad un tiro millimetrico tra palo e portiere. Ma nella vittoria lombarda c'è ancora lo zampino di Jordi Mendez, abile a trovare la rete del 5-4. Pedro Gil non riesce a sfruttare un tiro diretto mentre l'ex Illuzzi sciupa un tiro di rigore. Adesso gara 2, domenica prossima al Palacastellotti dove si discederà il vincitore del primo dei tre trofei italiani in palio. Diventa ancora più intrigrante. Il Lodi avrà dalla sua il pubblico amico visto che gli ospiti non potranno, come è successo nella gara di andata, avere al seguito i propri beniamini.